Ben, ho un lavoro per te. Un uomo vuole andare a caccia nel deserto. Un po' presto di questa stagione, no? Ha ottenuto un permesso speciale. La guida migliore dello Stato. Sì, me lo immagino. Muoviamoci. Lo sparo del fucile spaventa la selvaggine. Sono già spaventati, è per questo che vengono cacciati. Vedi niente? Maledizione. Dobbiamo portarlo in città. Ben, la situazione è più complicata di quanto pensi. La concorrenza mi distruggerà se verranno a saperlo. Buttalo! Ragazzo, hai rovinato tutto. Togliti i vestiti. Cosa? Non vorrei... Va bene, va bene! Ti guarderò morire. Andiamo, Ben. Guarda che sole. Brucia, vero? Vero? Charlie non la passerà liscia. Non erano queste le regole. Non erano queste le regole. Vieni fuori.